Oggi non dico se sono le primarie di coalizione, se sono le primarie rivolte agli iscritti di partito, se sono altri strumenti. Io credo che noi dobbiamo però cercare la modalità per aprirsi, per ampliare. Non mi lego a un'idea a prescindere né all'interno del partito, quindi che sia espressione di una parte piuttosto che di un'altra, né che sia espressione specifica del partito democratico. Noi dobbiamo scegliere le candidature più capaci di rappresentare le stanze, i bisogni delle città e più competitive. Così aveva parlato lunedì dagli studi di Telegram il segretario del PD in Toscana Emiliano Fossi rispetto ai meccanismi da utilizzare per sbrogliare quello che sembra un vero e proprio groviglio di candidature tra quelle avanzate, quelle previste, quelle stoppate e quelle sognate. Il bottino per il Partito Democratico, ma anche per la destra, che in questa regione è ormai contendente alla pare dei DEM, è di quelli decisivi. Nel 2024 oltre 180 comuni al voto, tra cui tre capoluoghi in mano al Partito Democratico, Firenze, Prato e Livorno, e nello stesso giorno le elezioni europee e probabilmente anche quelle delle province, che torneranno elettive. Insomma, una tornata epocale che farà da precursore alle regionali del 2025. Va da sé che i fascicoli sui tavoli di Via Forlanini crescono di dimensioni perché vanno tenute in equilibrio le volontà di Schlein e compagni di contare nelle candidature, insieme al ricollocamento dei tanti uscenti. In molti comuni scadranno sindaci al secondo mandato. È chiaro dunque che la strategia per scegliere i candidati è decisiva e Fossi si prende ancora qualche settimana per decidere cosa fare. Un eccesso di cautela per i 35 saggi che oggi, attraverso una lettera, chiedono invece primari ad ogni costo, che siano di partito o di coalizione. Un appello pubblico che porta alla firma di nomi noti quali Beppe Matulli, Andrea Barducci, Antonio Natali, Carlo Fusaro e Lisa Simoni. Tra di loro anche molti sostenitori di Schlein al congresso che chiedono di confermare quel successo ottenuto ai gazebo, riaprendoli in ogni città in cui si dovrà scegliere tra più anime. Certo la partita non è semplice e paradossalmente nei comuni considerati sicuri come Firenze, la guerra fratricida rischia di essere particolarmente aspera. Qui ad esempio, oltre a chi come Di Giorgio è già scesa in campo, ballano i nomi di Cecilia del Re, Sara Funaro, Monia Monni e fuori dal PD, da Italia Viva, quelle di Stefania Saccardi e Francesco Casini. Proprio sui cugini centristi, Fossi dice di non avere pregiudizi ma chiede trasparenza. Potrei notare che ha fatto scelte diverse in alcune amministrazioni locali in Toscana, ma detto questo lo noto come elemento di cronaca. A me interessa sapere se da qui ai prossimi mesi, al prossimo futuro, ci si riconosce ancora un orizzonte di centro-sinistra o meno. Io li considero ancora facente parte di questo orizzonte. Cercherò di capire, cercheremo di capire se anche loro lo si sentono. Di rimando, dal partito di Renzi si chiara chiarezza al PD rispetto alle opere strategiche da mettere in campo. Insomma, siamo ancora alla stagione dei botte risposta, ma la temperatura sta già salendo.